Materiali di oggi, un carboncino e tanta rabbia No scherzo, non sono arrabbiato Infatti faccio un piccolo gattino E se faccio sembrare le cose semplici è solo perché mi diverto Io corsi non ne ho mai fatti, non sono maestro di disegno Però sì, ci do E benì, a furia di disegnare gatti, alla fine ho imparato E più ci prendi confidenza, meno materiali poi ti servono E puoi realizzare opere finite anche solo con una matita Tanto provare non costa niente Un bacio